Buon pomeriggio a tutti. La delegazione di Fratelli d'Italia ha incontrato il Presidente incaricato Mario Draghi. È stato un confronto cordiale, franco, spero costruttivo. Abbiamo ribadito al Presidente incaricato che Fratelli d'Italia in ogni caso non voterà la fiducia al suo Governo per una ragione di metodo e per una ragione di merito che indipendono entrambe dalla sua autorevolezza e che non hanno nulla a che fare con un'eventuale pregiudizione ai suoi confronti. La questione di metodo è che noi continuiamo a considerare che l'Italia sia una democrazia come le altre, che non sia una democrazia di serie B, che gli italiani non siano cittadini di serie B, che come tutti i popoli al mondo abbiano il diritto di scegliere da chi farsi rappresentare, perché il principale problema italiano è che serve sì un Governo autorevole, ma serve anche un Governo coeso, con una maggioranza omogenea e una visione chiara da mettere in pratica. Questo oggi è possibile, sarebbe possibile solamente con nuove elezioni e un altro Parlamento, il che ci porta alla questione di merito. Il Presidente incaricato dal nostro punto di vista rischia di trovarsi con gli stessi problemi che abbiamo avuto fin qui, con una maggioranza troppo eterogenea, con un Parlamento a tratti balcanizzato, che rischia di portare ancora all'immobilismo nonostante la capacità e nonostante l'autorevolezza di chi guida l'esecutivo. E temo anche che si stia rischiando di andare verso una maggioranza nella quale i partiti e le figure preponderanti sono quelle che ci hanno portato fino al disastro nel quale ci troviamo oggi. Fratelli d'Italia lo ha sempre detto, lo ribadisce, anche per questo non possiamo votare la fiducia al Governo Draghi, non andrà mai al Governo con il PD, con il Movimento 5 Stelle o con Renzi. Confermiamo con coerenza questa nostra posizione. Il che ovviamente non ci impedisce di sperare che Mario Draghi con il suo Governo possano fare bene e di dare una mano all'Italia, come sempre abbiamo fatto, da forza politica responsabile e patriottica. Le nostre proposte in questi anni non sono mai mancate e a maggior ragione non mancheranno domani. Le nostre valutazioni continueranno a essere sempre puntuali e concreti e speriamo di trovarci di fronte qualcuno che abbia una voglia maggiore di ascoltare rispetto a quanto accaduto in passato. Abbiamo chiaramente concordato col Presidente Draghi sul fatto che l'Italia versa in condizioni di estrema difficoltà. C'è la pandemia, c'è soprattutto la crisi economica, c'è un tessuto produttivo che rischia di essere dilaniato, ci sono milioni di posti di lavoro a rischio e questo chiaramente chiama ciascuno alle responsabilità. E su questo, per dare una mano, noi non abbiamo bisogno di chiedere ministri o sottosegretari. Se arriveranno provvedimenti che consideriamo utili per far ripartire l'Italia, noi sosterremo quei provvedimenti, come del resto abbiamo fatto in passato, sempre senza chiedere nulla in cambio. A tal proposito, ovviamente, siamo tutti consapevoli di come oggi ci siano milioni di partite IVA, aziende, professionisti, lavoratori che ripongono la propria fiducia in questo Governo e nella sua possibilità di fare bene. Noi abbiamo, ci siamo confrontati su questo tema con Mario Draghi, ha detto delle cose condivisibili, secondo me, sul piano economico, in particolare quando dice che bisogna tornare a una spesa buona, che però vuol dire una discontinuità totale con i governi che abbiamo avuto finora. Perché oggi tutti sono d'accordo sul fatto che chi ci governava fino a ieri non era all'altezza del compito, compreso aver dilapidato buona parte dei 160 miliardi di euro in deficit che abbiamo speso negli ultimi mesi, noi lo dicevamo da prima. Io sono d'accordo con questo, spero che lo siano anche PD, Movimento 5 Stelle, Renzi e quelli che hanno votato provvedimenti che hanno dilapidato in buona parte. Molti miliardi, spero che facciano mea culpa e spero che le cose cambino perché il timore è che ovviamente invece con maggioranze che sono sostanzialmente, appunto, per buona parte uguali a quelle che abbiamo già avuto. Non so quanto si possa sperare, ma io ci spero, in un cambio di passo. Abbiamo parlato della crisi sanitaria, abbiamo parlato della crisi economica, abbiamo chiesto e ribadito le proposte di Fratelli Italia per mettere in sicurezza il tessuto produttivo della nazione, garantendo la continuità delle imprese perché il dato più preoccupante continua a essere quello secondo il quale il 40% delle aziende italiane rischia di non sopravvivere a questo anno. Noi in questi mesi abbiamo lavorato tanto su questo tema, le nostre proposte sono a disposizione, abbiamo parlato di recovery fund. Non so se Mario Draghi intenda confermare il recovery plan presentato dal Governo Conte, mi auguro di no. Abbiamo portato anche qui le nostre proposte, abbiamo chiesto che ci sia un investimento serio in tema di infrastrutture, dando priorità all'infrastruttura portuale, allo sviluppo del mezzogiorno, alla cura del ferro. Abbiamo chiesto che sia inserito nel recovery plan il tema della natalità, che è un tema economico che tutta l'Europa dovrebbe affrontare, è un tema economico e del welfare, la questione della sicurezza, perché noi abbiamo un problema di investimento in Italia che arriva dalla incertezza del diritto e della pena, la questione della ricostruzione delle aree terremotate, la riconversione di produzioni industriali ormai mature verso il marchio, che è la più grande risorsa economica italiana. Abbiamo chiaramente ribadito quello che è stato il lavoro fatto da Fratelli d'Italia in questi mesi. Abbiamo chiesto a Draghi di cosa intenda fare per mettere in sicurezza il sistema produttivo, per mettere in sicurezza le nostre aziende, le nostre infrastrutture strategiche, dalle attività predatorie delle nazioni straniere, prima fra tutte Francia, Germania, Cina, una grande questione economica aperta che si fa finta di non vedere e abbiamo chiesto chiaramente di avere qualche informazione in più sul governo, se si tratti di un governo tecnico-politico, se lui abbia idee chiare su altri grandi dossier che non sono propri delle sue materie di competenza, ma che sono dossier che l'Italia affronta ogni giorno. La questione migratoria, la scelta che si vuole fare è più simile al piano von der Leyen che chiede rimpatri, centri sorvegliati, screening preingresso o più vicina a quella della maggioranza di centrosinistra che contestava il piano von der Leyen. Politica estera, dossier Libia, l'Italia tornerà a sentire la sua voce oppure accetterà quello che sta accadendo. Ci sono tante questioni aperte. Il Presidente incaricato si è riservato chiaramente di affrontare con noi queste questioni, ci sarà un secondo giro di consultazioni. Chiaramente quello che auspico io è che ci sia una sua visione da far poi, diciamo così, digerire eventualmente alle forze che lo sosterranno piuttosto che cercare la sintesi, perché quando si cerca la sintesi in tutto l'arco costituzionale rischia che il compromesso sia parecchio a ribasso. E questo è il principale rischio che secondo me oggi si corre. Abbiamo, e chiudo, anche chiesto se il Presidente incaricato escludesse la possibilità di un mandato a tempo che consentisse di mettere in sicurezza l'Italia sul piano vaccini, sul recovery fund, sulle questioni più urgenti e consentire agli italiani di tornare al voto prima che scatti il semestre bianco. E mi pare che invece la scelta sia quella di un orizzonte più lungo, direi di legislatura probabilmente, il che a maggior ragione non può vedere Fratelli d'Italia favorevole, sapete come la pensiamo su questa materia. Come dicevo ci sarà un secondo giro di consultazioni e ribadiamo che non voteremo la fiducia al Governo Draghi, ma che Fratelli d'Italia c'è per tutto quello che può mettere in sicurezza l'Italia, gli italiani, i suoi confini, il suo lavoro, le sue aziende, le sue famiglie, il suo futuro. Come sempre abbiamo fatto, non ci servono i ministri e i sottosegretari per dare una mano alla nostra nazione. Grazie.